Un colpo di testa imponente che difficilmente riusciremo mai a dimenticare. Un gesto tecnico che non ci stancheremo mai di rivedere. Un gol che ha dato il là al trionfo mondiale dell'Italia in terra tedesca. La rete del pareggio, siglata da Marco Materazzi nella finalissima del 2006 contro la Francia rappresenta forse uno dei momenti più emozionanti della storia recente della nazionale. Non tutti però probabilmente ricordano con esattezza il minuto nel quale è stato realizzato il gol del difensore azzurro. La domanda quindi alla quale vi chiediamo di rispondere è la seguente. A che minuto Materazzi ha siglato l'1-1 nella finale del 2006 contro la Francia. Avete tre opzioni 19, 17 o 20. A voi la scelta. Ci state ancora pensando? Cliccate sul link in sovrimpressione ed andate alla quinta puntata di numeri azzurri. Lì troverete la soluzione al nostro quesito.